buongiorno e ben trovati al consueto punto con la stampa siamo con alessia che ci aiuta con la lingua dei segni oggi non facciamo dalla sala rivera dove c'è la sede dell'unità di crisi ma dalla mia stanza in qualità di sindaco perché da poco abbiamo finito una trasmissione sul re 3 dove abbiamo rappresentato i problemi della città dell'aquila e di tutto il cratere alle prese con una nuova emergenza e le difficoltà che vivono in particolar modo le attività commerciali gli artigiani gli autonomi che a fatica si erano rimessi in sesto dopo il terremoto che a fatica si sono rimessi in sesto dopo il rientro magari in centro storico nelle proprie attività tradizionali e che oggi si trovano a vivere nuovamente un'emergenza questa mattina abbiamo avuto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tutto incentrato sulla celebrazione fra il 5 e il 6 aprile in occasione dell'undicesimo anniversario del terremoto celebrazione e non manifestazione perché queste sono vietate abbiamo chiesto la possibilità al ministero appunto di farlo in forma ridotta siamo in attesa della risposta ma qualunque sia la decisione presa noi ci atterremo in maniera disciplinata e ribadisco che purtroppo la cittadinanza non potrà prendervi parte ma potrà far sentire il proprio calore la propria vicinanza non soltanto al sentimento del ricordo che riguarda le nostre 309 vittime ma anche di tutte le vittime del coronavirus che muoiono purtroppo da soli e senza il conforto dei cari e potranno farlo appunto tutti i cittadini aquilani ma non soltanto quelli del cratere e lanceremo anche una campagna nazionale ad illuminare le proprie finestre proprio i balconi con candele con la luce dei dei cellulari per essere vicini a alla nostra comunità e a tutte le comunità italiane del mondo che stanno vivendo la tragedia del del coronavirus relativamente alle possibilità di spostamento che restano vietate ieri c'è stata una circolare del ministero dell'interno cosiddetta passe della passeggiata per i figli che consente ad un solo genitore insieme ai propri figli minori di camminare nei pressi della propria eh abitazione eh è comunque vietata eh l'attività sportiva non ci sono alleggerimenti di misure non deve passare il concetto che eh il fatto del contenimento del contagio dell'assestamento eh diciamo dei numeri e di queste aperture non deve far passare il messaggio che l'emergenza sia finita tutt'altro bisogna continuare a rimanere dentro casa bisogna continuare eh ad osservare le disposizioni eh impartite perché comportamenti sani come quelli che sta avendo la popolazione aquilana in particolar modo e io continuo a ringraziare tutti i concittadini eh dell'Aquila e del territorio sta consentendo all'Aquila città in particolare di distinguersi dal punto di vista della virtuosità dei comportamenti e quindi eh del numero dei eh dei contagi dal da domenica 5 aprile sarà attivato il servizio di bus a chiamata eh l'emergenza naturalmente ha comportato una rimodulazione eh delle corse delle fermate non ci sono più da tempo le corse scolastiche le fermate degli autobus sono state eh limitate e a partire dal 5 aprile sarà attivo appunto un nuovo servizio festivo saranno effettuati collegamenti dal terminal bus all'ospedale con alcune corse della linea 2F e dal terminal bus alla stazione in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei treni con alcune corse della linea 1F sarà inoltre attivato un servizio a chiamata dalle 7 alle 21 dei giorni festivi escluso il giorno di Pasqua al fine di garantire la mobilità nei casi di comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza. L'utenza può telefonare al numero 0862 319857 dalle ore 8 alle ore 12 dal lunedì a sabato. Nell'ambito delle delibere approvate lunedì eh in giunta eh ce ne sono tre che hanno riguardato interventi sociali 200 mila euro di contributi economici per le famiglie 60 mila euro in favore di progetti di integrazione e 120 mila euro di contributi per l'assistenza eh ai disabili sono un rimborso delle spese che eh sostengono le associazioni appunto che assistono persone con eh disabilità e fra l'altro quest'anno il contributo eh a copertura del costo totale del progetto è stato eh innalzato all'ottanta per cento. Dalla comunità di Arischi arriva un gesto di solidarietà a sostegno della della battaglia che stiamo eh combattendo contro il covid-19. Il comitato festa 2020 insieme al parroco Don Tito e all'amministrazione dei beni separati ha scelto di devolvere la cifra complessiva di 3.000 euro in favore dell'associazione Vado che è l'associazione che supporta l'attività del reparto di anestesia e rianimazione della terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Arriviamo ai controlli della Polizia Municipale. Nella giornata di ieri sono state controllate 73 persone e 44 attività commerciali e non è stata fatta nessuna denuncia. Do un po' di dati riassuntivi sulla provincia dell'Aquila relativamente ai controlli effettuati. Dall'11 marzo quindi in 20 giorni sono state controllate quasi 20.000 persone, 55 sono state sanzionate, 430 denunciate per violazione dell'articolo 650 cioè per non aver ottemperato ad ordinanza di pubblica autorità, 14 denunciate per violazione degli articoli 495 e 496 del codice penale riferiti a false dichiarazioni, 16 per altri reati e 3 sono stati arrestati, si tratta ribadisco di dati su tutta la provincia dell'Aquila. Gli esercizi commerciali controllati sono stati più di 5.800 con 8 titolari denunciati, 18 sanzionati e 1 a cui è stata sospesa la licenza per l'attività. Da questa notte, da mezzanotte è operativo il sito dell'Inps per la richiesta del bonus autonomi. I dati di questa mattina dicevano che entravano 100 domande al secondo. Io specifico che non si tratta di un click day come detto erroneamente, non è una erogazione a sportello. Nelle stime del Ministero delle Finanze ribadite proprio questa mattina durante la trasmissione di Rai 3 dal Vice Ministro dell'Economia Misiani è stato chiarito che l'importo stanziato copre tutta la platea dei potenziali richiedenti. È stato precisato anche che qualora per un caso straordinario i richiedenti dovessero essere in numero superiore rispetto alle risorse disponibili. Ci sarà un reintegro delle somme per consentire a tutti di avere il bonus da 600 Euro. Considerato che nella sola giornata fino a questa mattina erano già state 300.000 le richieste, è un segno di come il mondo degli autonomi, delle partite IVA, di tutti quelli che non hanno garanzie di ammortizzatori sociali come altre categorie. Insomma stia vivendo una fase complicata e anche a tal proposito va ben puntualizzata l'attività del Comune relativamente ai 368.000 Euro stanziati dal Governo per i nuovi bisogni per essere certi che questi soldi vadano effettivamente a persone bisognose, cioè a coloro che a seguito dell'emergenza stanno vivendo un bisogno inedito, non previsto e quindi come tale ancora più forte dal punto di vista dell'impatto. Sono a disposizione per le domande. Allora, le riunisco, le accorto perché sono tutte sullo stesso argomento da Nello Vellani di Newstown, Tonella Caccani, il messaggero e Marco Signori di L'Aquila Blog ci chiedono, fanno riferimento alle dichiarazioni rese ieri da alcuni esponenti del centro-sinistra che hanno paventato lo spostamento di alcuni reparti ospedalieri in provincia per far posto posti di letto Covid-19. Allora, non c'è nessuno spostamento di reparti, non c'è nessuno scippo, la dimostrazione sta nella vaghezza delle rivendicazioni fatte. Certo c'è una riorganizzazione dell'ospedale, ne abbiamo parlato a più riprese, per liberare posti letto per la medicina Covid, cioè per i malati che non, per i positivi Covid con sintomi che non hanno bisogno di terapia intensiva o subintensiva. La riorganizzazione riguarda moltissimi reparti dell'ospedale, alcuni reparti hanno ceduto dei posti letto, ma in maniera provvisoria, al termine dell'emergenza verranno ripristinati perché non c'è nessun riordino della rete ospedaliera, ma una riorganizzazione della rete ospedaliera, che è cosa molto diversa, è altrettanto evidente che alcuni reparti devono, e ribadisco, devono rimiare tutte le attività non urgenti, tutte le attività differibili, non devono essere tutte le operazioni chirurgiche che possono essere rimiate, devono essere rimiate, perché abbiamo bisogno di sanitari, medici, infermieri e operatori sociosanitari, che siano a disposizione di questi nuovi 220 posti letto di medicina Covid, così come abbiamo bisogno di sanitari per gestire la struttura del G8 e bisogna anche distinguere la cura degli acuti e dei cronici. Allora, se alcune attività relative ai cronici può essere svolta in altro presidio, per esempio, dico ma è solamente un'ipotesi, è un'iniziativa a vantaggio dei pazienti, che non significa effettuare degli scippi e soprattutto, l'ho detto già domenica mattina nel comitato ristretto dei sindaci, e se necessario lo formalizzerò anche, che sarebbe interessante anche disporre una ricognizione per verificare l'appropriatezza di ricoveri in reparti dove alcuni primari stanno facendo resistenza a cedere sanitari, per verificare se effettivamente l'occupazione di quei posti letto sia corretta o meno. Non si dovrà arrivare a queste cose perché io credo che la stragrande maggioranza dei medici e dei dirigenti medici dell'ospedale si stia comportando in maniera oculata, in maniera responsabile, in maniera professionale e si stia sacrificando molto. Faccio un esempio, solamente il primario di pneumologia, Fiore Donati, che questa mattina gli ho fatto gli auguri per la pensione, mi ha detto che in realtà sto andando a firmare un nuovo contratto perché mi rimetto in pista, nonostante avrebbe potuto godersi la pensione, quindi il senso di sacrificio è incredibile da parte del nostro personale medico e non soltanto, e anche ne ho approfittato per fare gli auguri al nuovo facente funzione, Paolo Carducci, insomma il reparto di pneumologia è uno di quelli maggiormente interessato da questa emergenza e quindi c'è bisogno di persone all'altezza preparate come loro. Non credo che ci siano spostamenti in pista per la lungodeggenza, tanto più se magari il primario della lungodeggenza può attestare che, per esempio, ma lo dico solamente a titolo di esempio, che l'appropriatezza dei ricoveri nel suo reparto c'è e se tenere un reparto dove c'è una popolazione molto fragile, molto a rischio nell'ambito della gestione di un'emergenza possa mettere in sicurezza i pazienti ricoverati. Eleonora Berardinetti del Quotidiano Il Centro chiede come si sta organizzando per affrontare l'emergenza alimentare o meglio per la distribuzione dei buoni pasto, dei fondi, dei famosi 400 milioni per le famiglie. Allora, per quanto riguarda il 368 mila euro, oggi andremo in giunta e faremo la variazione di bilancio, quindi renderemo disponibili queste risorse. Stiamo studiando le modalità affinché questi buoni vadano effettivamente alle persone che ne hanno bisogno. Io personalmente ho lanciato la proposta di sostenere la genitorialità, di aiutare molto le famiglie dove ci sono bambini piccoli per garantire in questa fase a persone indifese un'alimentazione corretta e la possibilità di acquistare prodotti di largo consumo come pannolini, creme fissanti ed altro. Devo dire che comunque noi nel frattempo stiamo fronteggiando tutti i bisogni grazie a una rete di solidarietà territoriale che è già in campo, che già sta operando. Nel corso del... attendiamo il fine settimana per capire se possiamo implementare questa rete. ho raccolto già la disponibilità della Caritas a collaborare con il Comune. Parimenti ha fatto la Croce Rossa italiana. Ho scritto al direttore del Banco Alimentare che ha risposto prontamente e ha già fornito la disponibilità di viveri, anzi credo che addirittura questa mattina li abbia già scaricati. Sto attendendo notizie. perché questa è una città solidale, una città attenta e questa è un'amministrazione che non lascerà nessun bisognoso in condizioni di indigenza al punto tale da non poter avere il minimo indispensabile per la sopravvivenza, per mangiare e per nutrirsi. oltre devo dire che c'è una rete diffusa di solidarietà privata che sostiene i bisognosi anche attraverso sforzi economici personali non rivendicati pubblicamente. Non abbiamo altro domande. Grazie, buona giornata a tutti e buon lavoro.